Il nostro vicario all'organizzazione Giulio Valenti mi ha chiesto di lasciare la testimonianza di quando ho svolto il ruolo di Barbaresco. Inizio dicendo che sono orgoglioso di aver ricoperto questo ruolo e di aver fatto una piccola parte nella storia padesca della nostra contrada. Un altro motivo per cui mi rende orgoglioso è perché la nostra famiglia, la mia famiglia, è stata una famiglia per tre generazioni di Barbareschi. Io ho avuto il nonno che è stato Barbaresco a cavallo degli anni 40 e 50 della lupa, lui è vittorioso, mio babbo purtroppo non ha vinto ma è stato Barbaresco a metà degli anni 80 della selva e io Barbaresco a inizi anni 2000 con la fortuna di aver vinto. Quindi questo mi riempie molto di orgoglio, tre generazioni, una famiglia di tre generazioni Barbareschi. Penso non è che a Siena ce ne so tanti. Parto da dire che il Barbaresco è il ruolo secondo me più bello che ci sia nel palio. Io non ho fatto solo ruoli di stallo, ho fatto il vice Barbaresco, ho fatto il Barbaresco, non ho avuto altri ruoli, però il fascino che ha il Barbaresco secondo me non ce ne ha altri ruoli. Il fascino perché voglio dire stai a contatto 96 ore con il cavallo che rappresenta la tua contrada che è l'attore principale poi del palio. il Barbaresco è l'ultimo contraiolo che sta dentro l'entrone con il fantino e il cavallo che dà un'aria emotiva anche al fantino prima di correre il palio. Quindi per me mi si accappona la pelle quando ripenso diciamo che sono stato barbaresco. Ora sembra tutto rosa e fiori, ma tutto rosa e fiori non c'è, ci sono dei momenti belli e dei momenti brutti. Io devo essere sincero, ho avuto forse più momenti belli che momenti brutti. Avendo sempre avuto cavalli comunque da corsa e vittoriosi perché comunque o dopo o prima, io diciamo negli anni che ho ricoperto questo ruolo ho avuto buoni cavalli e quando ti dai buoni cavalli i momenti difficili che possano essere brutti nella stalla. Sì, forse l'unico momento un po' più brutto che ho avuto è stato quando ci è toccato Fedora Saura, era il debutto nel 2006 di luglio. La cavalla primo palio, scondizionata, 70-80-100 kg che gli mancavano addosso. Ecco, lì si è fatto un gran lavoro con il dottor Cevese che mi fa sempre piacere ricordarlo. Come voglio ricordare Riccardo Manetti era vice barbaresco, Luca Guerrini, il Mariolo era un mio ragazzo di stalla. Lì facemmo un miracolo per portare questa valla a correre il palio. La sera della prova generale veramente si era già al limite perché la valla aveva dei valori del sangue totalmente sballati, i muscoli completamente finiti. La fortuna fu che la sera della prova generale, mentre tutti i cavalli erano all'entroni, mancava tre quarti d'ora alla prova, la nuvola di Fantozzi ci salvò, venne un'acquazione in piazza del campo e lì ci risparmiò quella prova che fortunatamente non facendola, si andò direttamente poi al palio il giorno dopo perché se non mi sbaglio forse non si forse nemmeno la provaccia, quindi risparmiando si arrivò a correre il palio e poi tutto sommato facciamo anche un palio dignitoso perché si era terza addirittura al primo giro, poi la valla sicuramente non avendo bella condizione per correre e per fare tre giri e piano piano cominciò a calare e adesso arrivo diciamo in mezzo al gruppo. Mi ricordo con piacere dopo il palio e mi feci una bella doccia, mi ricordo, e poi la buttare dentro il box e questa valla si buttò in terra senza disinteressarsi del mangiare e tutto si buttò in terra, quasi che potesse morire. mi ricordo col capo, si cercava di ricoprirsi col truciolo e niente, mi ricordo, mi fece un po' di tenerezza però lo ricordo volentieri questo momento. Poi ebbe un po' di discussione con un carissimo amico, discussione di vedute, discussione buone, di vedute perché lui sosteneva che questa valla era una somara io dicevo che secondo me sarebbe diventata una gran cavalla da palio perché quando cavalli sono in quel modo scondizionati e comunque di solito fanno una brutta fine invece lei ebbe la testa per affrontare comunque in quelle condizioni la corsa riuscì a finirla e disse secondo me questa quando il momento l'avessero portata in piazza in una condizione diversa poteva dire la sua. Poi infatti la storia ha parlato un po' per lei perché ha vinto tre pali, uno ce lo ricordiamo con molto piacere perché nel 2010 fortunatamente ci ritoccò e si riuscì a vincere. Poi un adedoto che voglio ricordare che non c'entra niente con il cavallo ma è il primo palio il 29 di giugno del 2004, il primo palio da Barbaresco. Diciamo che al di là che era il mio primo palio da Barbaresco quindi un po' di tensione e tutto però venivamo diciamo dal palio vinto, l'ultimo palio avevamo vinto, con Trada non c'erano grosse pretese, anche a livello economico voglio dire non volevamo pesare a fronte della contrada, poi Alessandra fino allora non è che aveva dimostrato di essere questa grande cavalla. Mi ricordo niente siamo nel pomeriggio, mi chiamo Roberto Marini allora era capitano e mi dice Boccia guarda si va con Guido, dice stasera, dice prepara la roba per la sua misura, giubbetto e pantaloni, dice vediamo un po' come Guido reagisce stasera, dopodiché domani si prenderà la decisione se andrà con lui fino in fondo o no. Niente si va dentro l'entrone, mi ricordo mancava dieci minuti a correre la prova e Roberto e Barabino e Sandro era l'altro mangino erano già usciti e si erano già avviati nel palco e lì c'era rimasto Bruno che con l'immancabile si prende sigaretta in bocca, lo Zuno e Stefano Bianchi era un po' più là. Io stavo girando la cavalla alla nonna, vedo Guido che in pantaloncini e cannottiera, Guido che si ricorda come volentieri perché comunque ci avevano una grande soddisfazione perché come grande Fantino sicuramente si ricorda per la sua carriera di grande Fantino ma non per un grande atleta. Vedo Guido che si aggrappa al gaggio della volonna e con i piedi tenta di tirarsi su, lo fa più nella parte laterale della volonna, però che succede? scivola, nello scivolare batte l'anca nella volonna e va giù in terra. Io ho un po' Guido, lo Zuno mi aveva perso un po' anche il senso del riflesso, la signoretta a bocca rimane fermo, il Bianchi che parte a corsa e gli fa Guido, ma Guido, ma che ha fatto? Guido mi ricordo, mi viene sempre da ridere quando ci penso perché con quella faccina innocente che ha Guido, lo guarda e gli fa, stavo a fare un po' di stretching, ma che stretching, ma che stretching, ma sarà uno da stretching? e ti dico, ti dico, mettiti il giubbetto, tanto tra cinque minuti c'è la prova, stai tranquillo e non ti muove più. Ricordo volentieri questa cosa perché mi viene da ridere tuttora quando ci ripenso, poi mi viene da ridere la faccia sempre di Bruno con l'immancabile sigaretta, purtroppo ci ha lasciato, lo ricordo volentieri e questo è un aneddoto che ricordo volentieri. Quindi, niente, detto questo, spero di ritornare a incontrare da quanto prima, stare tutti insieme a bere e a cantare perché questa tragedia del Covid-19 ci ha veramente rotto le scatole. Ciao, a presto. Ciao.